In bicicletta senza rotelle, oggi è il 14 di settembre e ha cominciato a andare senza rotelle cinque giorni fa, cinque o sei giorni fa. Ciao, guarda davanti, vai, riprova, 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 ancora fa un pochino di dondolamento, bravissima! Ok, fermi, che va sullo scooter, giro, arrivo, arrivo, ti faccio vedere, sei pronta? Ciao, mi faccio vedere, mi faccio vedere, mi faccio vedere!